Ora andiamo a vedere il quarto capitolo del manuale sulle teorie della selettività, che si apre con la teoria che abbiamo già introdotto prima degli effetti limitati dei media, che sono stati introdotti da Latzfeld, Berson e Godet nel 1948 con il test The People's Choice e qui non starò a parlare di questo, ma ci sono alcuni studi che hanno fatto gli studiosi vedendo come questa sarebbe la conclusione che gli studiosi hanno portato, l'esposizione cristallizza e rafforza più che converta, cioè che effettivamente il potere dei media non era proprio quello di far cambiare opinione, ma far rafforzare l'opinione che una persona già aveva, e questi sono gli studi e i dati che sono stati portati. E questo, anche proprio questa è la sintesi della frase che poi Clapper comunque espliciterà nel The Effects of Mass Communication, cioè la comunicazione persuasoria di massa tende di norma ad agire più in direzione del rafforzamento e della modificazione di levitità, si intende rispetto invece alle teorie precedenti che vi vedevano in media come qualcosa di forte, di manipolatore e quindi questo provoca una prospettiva molto ottimistica, perché effettivamente i media non sono così cattivi e potenti come si pensava prima, però questo ha già fatto subire delle critiche al sistema, ma per esempio Gilton nel 1978 ha parlato proprio che si è creato quasi una specie di paradigma degli effetti limitati dei media, perché questo, ecco mettiamo anche la critica, che si capisca che sia una critica, perché l'esposizione selettiva diventa la spiegazione comunemente adottata per dare conto della difficoltà a trovare conforme e conferme nel potere dei media, questo dice Straud, cioè la difficoltà a individuare effetti evidenti, misurabili, non era condotta alle difficoltà di operazionalizzare concetti complessi, ma alla limitatezza degli effetti stessi. Ovviamente siamo in una società molto più difficile, molto più complessa da capire, ma non per questo dobbiamo dire che i media hanno un potere molto minore. E quindi questa teoria negli anni 70 e negli anni 80 è caduta in disuso, anche perché effettivamente c'erano queste critiche che effettivamente si è ritornati in un nuovo paradigma degli effetti forti dei media. Però c'è una novità che ha portato Internet, perché Internet ha portato effettivamente a queste tre caratteristiche che qui ho riportato, la moltiplicazione di media, la fremitigazione delle orbitance e l'overload affermativo, che hanno fatto riprendere questa teoria degli effetti limitati di media, da Bennett e Inger, che nel 2008 scrivono questo testo col titolo effettivamente molto clickbait, A New Era of Minimal Effects, The Changing Foundation of Politics, Political Communication. Cioè che si dice, forse, ecco, in mass media e in generale il concetto di massa è obsoleto, perché com'è che in questa società così individualizzata, così personalizzata possiamo ancora parlare dei mass media, cioè qualcosa che agisce sulla maggior parte della popolazione. Abbiamo degli individui con delle preferenze molto precise per dei contenuti che non fanno più pensare a dura massa come si pensava prima. E questo è dato da diversi fattori che qui sono stati elencati in maniera più sistematica, ovvero intanto l'aumento dell'infetta affermativa, un'abbondanza comunicativa, cioè della televisione passata per esempio dal monopolio al duopolio, al digitale terrestre, poi la montaplocazione delle piattaforme dove possiamo guardare i programmi, l'overload informativo, cioè che comunque abbiamo un'overstimolazione di canali e possibilità di informazioni anche contrastanti tra di loro, anche contrastanti e perché possiamo decidere noi stessi che cosa vogliamo ascoltare. Questo è derivato dalla frammentazione delle audience per quanto riguarda il medium, che per esempio i giovani utilizzano internet, gli anziani utilizzano la televisione e per quanto riguarda i contenuti, cioè una persona può decidere di vedere un film che è diverso da quello che una persona preferisce una serie, ecco. E quindi questo ha provocato questo information stratification, cioè sia stratificazione sia segmentazione, ecco, nello stesso momento. E per questo ovviamente poi è un altro punto, la fine dell'esposizione casuale che fa parlare di a priori post-broadcast democracy, cioè che una persona che vuole evitare le informazioni sulla cosa pubblica, le informazioni tipo sulla politica, può farlo, anche se Horbert dice, beh effettivamente, magari non come dice, tutto quanto puoi farlo, però effettivamente se tu vuoi guardare soltanto informazione, se tu vuoi guardare soltanto intrattenimento, puoi guardare soltanto intrattenimento senza che tu abbia qualcosa di effettivamente contenutistico, politico, la stessa cosa non è possibile invece al contrario. E poi la parte generale dell'esposizione che permette di evitare delle forme di dissonanza collettiva e gli individui si rifugiano nelle loro echo chambers, e poi ovviamente il mercato dell'attenzione che è questa competizione tra tre media per guadagnarsi quello che è il click, l'attenzione delle persone. Altre caratteristiche, ci sono appunto dei vari tipi di esposizione selettiva e dei vari motivi proprio per cui una persona lo fa, queste sono state le ragioni per cui c'è il fenomeno, e queste invece sono ragioni per cui una persona lo fa. Allora intanto questa l'abbiamo già parlata, quella della deduzione della dissonanza cognitiva, cioè che una persona si sottrae messaggi che non sono coerenti con le attitudini e con le conoscenze sue preesistenti. La seconda è quella della ricerca di un sostegno informativo, cioè difesa e accuratezza, se una persona difende l'opinione che sostiene, ma anche cerca sempre di più informazioni su quello di cui è convinto, che siano ovviamente coerenti con quello che continua a credere. Riduzione del corso dell'elaborazione delle informazioni, ovviamente se le informazioni sono coerenti con quello che già penso, fa meno fatica a me. E poi attribuzione di un giusto di qualità da alcuni media outlet, cioè una persona si fida di certi medi e non si fida di altri, si fida di una pagina Facebook e non si fida di quel certo sito internet, e quindi questo provoca quella che è l'esposizione selettiva. Un altro motivo è la ricerca di una consonanza con il resto dell'audience, perché le persone sono caratterizzate da questa omofilia, cioè cercano le cose, le persone che hanno gli interessi più simili e rappresenta proprio come una forma di identity market, cioè una persona è quello che clicca. Ecco, dell'esposizione selettiva queste sono le ragioni che spingono le persone a farlo, questi invece sono proprio i tipi di esposizione selettiva, che una persona può scegliere tra news e intrattenimento, è più facile se una persona vuole soltanto intrattenimento, che abbia soltanto intrattenimento, che il contrario, questa è derivata di fenomeni per esempio di infotainment e politainment. La selezione di teme, ovviamente una persona se è interessata da una cosa, la clicca e non clicca quello che non è interessato, selezioni di determinati media, io posso preferire guardare un film su Netflix rispetto che in televisione, e poi selezioni di contenuti coerenti con le proprie posizioni, ovviamente quello che ho detto prima, ma gli individui scelgono i meta-athlet più vicini alle loro posizioni politiche per il concetto di omofilia. E tutto questo crea quello che è il fenomeno delle echo chambers, le camere di risonanza, che sono queste camere immaginarie, questi luoghi virtuali di internet, che come questo termine appunto dati da Sunstein, danno questa impressione di essere all'interno di un luogo protetto, dove tutte le persone che sono all'interno la pensano come la stai pensando tu, e quindi c'è una riduzione di quello che è il confronto con le decisioni costostanti, perché all'interno di questi echo chambers, che può essere magari un forum su internet, dove ognuno ha la stessa opinione, si crede che ci siano tutti che abbiano questa stessa opinione. E ovviamente le conseguenze sono molto pericolose, perché si rischia un estremismo violento di riatrilezione delle proprie idee, cioè se uno poi ha un'idea un po' diversa dalla tua, per te è molto diversa dalla tua, perché non si è abituato agli opposti. Da problemi per la governance, perché è difficile trovare un accordo quando ci sono persone che hanno posizioni così diverse. Mutano le forme del consenso, perché ovviamente una persona non è più disposta a dare consenso a una cosa che sia lievemente, o forse anche molto distantemente diversa dalla sua, perché al massimo se è proprio lievemente distante riesce a dare il consenso. Poi visibilità delle esaltazioni delle forme di partisanship, cioè l'esaltazione di quelle che sono le operazioni partigiane, invece di trovare un compromesso, e poi le difficoltà di distinguere le notizie vere e le notizie false, perché ovviamente se una persona è abituata a sentire sempre queste notizie, sono sempre false, però non potrà mai accorgertene, anzi inculperà gli altri, e viceversa chi è in una diversa ecocamber. E quindi quella che è la soluzione, è quella di introdurre dei livelli di serendipity, che dall'inglese appunto è casuale e felice scoperta, per far incontrare questi due gruppi così separati, che non sono due ma sono molti. Però poi ci sono degli studi e anche sui social media, che dicono che fortemente non è che sia proprio così, sono proprio così distinte, così veramente separate e incomunicabili tra di loro, le ecogambers, per esempio c'è Doug and Smith che fanno uno studio su Facebook, che dicono che non è che tutti quelli su Facebook hanno amici che hanno le loro stesse idee, per esempio c'è il 23% delle persone che ha amici diversi, ecco, cioè soltanto il 23% ha soltanto persone che hanno punti di vista simili a lui, il 20% delle popolazioni su Facebook ha cambiato la sua opinione, e quindi ecco così via un po' di idee su quello che sto dicendo. E quindi è vero che in un certo senso internet esalta questa faccenda, cioè che uno sia sempre più collegato con quello che a lui piace e lui crede, però effettivamente anche c'è il movimento contrario, perché c'è anche una maggiore esposizione a prospettive opposte, e questo è dato dalla famosa di Bandbridge tesi dell'avvertenza, ovviamente non è che ogni volta che clicchiamo qualcosa lo facciamo sempre stando attenti, ma sicuramente è una cosa che può essere totalmente d'accordo con quello che dico io, o forse no, cioè lo clicchiamo perché magari è un titolo molto clip painting e lo facciamo. E quindi ecco che questa, abbiamo parlato di quelle che sono le echo chambers, che è un sistema di selezione umana, e invece c'è un sistema di selezione artificiale dato dalla regla di ritmo, ovvero gli filter bubble. Le filter bubble, che ne parla l'Iparisier, che sono come se fossero una bolla di filtro, appunto una filter bubble, cioè l'algoritmo ci consiglia, ci propone sempre quello che in qualche modo risulta coerente con quello di cui prima abbiamo cercato. Se io mi interesso soltanto della Lega, probabilmente è difficile che Internet mi proponga qualcosa che ha a che fare con il Partito Democratico, però ha sempre più a che fare con la Lega e con questi movimenti. E quindi questo si crea, è diverso dall'esposizione selettiva perché è un processo centrifugo dei filtri che porta a isolarsi in un contesto iperpersonalizzato, ma questo non tu consapevolmente con l'esposizione selettiva, ma inconsapevolmente, quindi invisibilità selettiva, cioè una persona non è consapevole di questo meccanismo del processo decisionale dell'algoritmo, e poi ingresso passivo nella bolla, ovviamente noi non sappiamo quando un algoritmo è lui che ci ha fatto vedere qualcosa, siamo noi che abbiamo voluto vedere quella cosa. Anche se poi ci sono anche delle torchie che restringono anche queste filter bubble, per esempio Stringy parla di un filtraggio che è comunque sempre di natura sociale, ecco qua social filtering, collaborate filtering, oppure Cori.hool dice, effettivamente Pariser dice che ci sono, cioè molto attivista, dice effettivamente vanno sempre bene, cioè si stanno sempre aumentando di più gli strumenti antifiltraggio, cioè la blocca della pubblicità, strumenti di filtro e confronto, rimangono invece a livelli attuali, gli altri ecco invece bisognerebbe stare attenti a quello che sono appunto il patere manipolatorio della stessa selezione algoritmica. E appunto c'è due selezioni, la presenza autoselezionata che è quella dell'esposizione selettiva, e poi la presenza non-elezionata che è quella della filter bubble e degli algoritmi. Così, anche Bruns dice che ci sono due tipi di selezione, quello del livello individuale, filter bubble, a livello collettivo all'interno delle echo chambers, e ovviamente poi qua c'è un riassunto generale su quello che si è detto, ecco che c'è sempre questo pericolo di rinchiudersi in queste echo chambers, e l'antitodo è un'antidità crossmediale, cioè è un'antidità che non ha un'esposizione che non è caratterizzata soltanto da un media o una fonte, ma che sia relativa a diversi strumenti, diverse prospettive. E questo, ecco, questo è il capitolo 4 del manuale di sociologia del Comune.